era una scuola tutta di vetro vicino a new york c'erano dei corridoi molto ampi e luminosissimi e fra porta e porta delle varie aule dei pannelli colorati rosso blu giallo sui quali ci si poteva fermare e fare un disegno ricordo che la prima volta che mi ci portarono facevo in italia la terza elementare non riuscivo a pensare che quella fosse proprio una scuola le larghe vetrate molto basse davano su un immenso prato verde tutto e solo verde di erba fitta e rasata soltanto ai margini si vedevano le aiuole coltivate dai bambini stessi che differenza con l'odore di chiuso della mia scuola e quel cortile squallido fra la biancheria stesa delle case popolari il primo giorno che mi iscrissero in america mi sentivo tutto infelice nella solita scuoletta del mio rione buia vecchia ma così simpatica avevo lasciato i miei compagni e mi pareva di odiare i miei genitori e tutti quelli che avevano rotto l'incantesimo delle mie amicizie viaggiare va bene ma ficcarmi in una scuola americana questa non gliela perdonavo il direttore pelato e bruno di sole mi accompagnò nella mia classe attraverso i lunghi corridoi e su ogni pannello colorato vedevo disegnati tanti cuori rossi verdi viola neri e pensavo a casa mia i cuori sono sempre rossi ma poi c'era scritto san valentino il giorno di san valentino vuoi essere il mio valentino vuoi essere la mia valentina mi sa pensavo che qui sono tutti mattacchioni a me sentivo così sperduto in mezzo a quella luce a quei colori che avrei voluto allungare la mano e agguantare la mano del direttore forse con la mia maestra l'avrei potuto fare ma lì con quel signore che mi trattava con tanto garbo come se fossi stato un grande era proprio impossibile mi ricordavo l'ostilità le risatine le gomitate con le quali avevamo l'anno prima accolto un bambino che a metà del trimestre aveva cambiato scuola gli avevamo fatto un sacco di dispetti già aveva il fiocco verde invece che azzurro come il nostro e poi aveva la cartella sulle spalle e tanti capelli ricciuti e noi in ogni ricciolo gli avevamo infilato una pallina nel giro di pochi minuti e poi il bidello che sbuffava perché aveva dovuto spostare i banchi e portarne uno tutto nero e polveroso e ripulire il sudicio che era saltato fuori dai banchi smossi lo sai che cos'è il giorno di san valentino mi chiedeva intanto il direttore no signore è un giorno dedicato ai ragazzi chi si vuole bene e ha simpatia si regala un cuore sì signore la mia immagine camminava sul pavimento di plastica azzurra e mi vedevo le gambe dal basso in alto corte e tozze in prospettiva il direttore si fermò sul pannello vicino alla classe dove dovevo entrare c'erano decine di cuori incrociati infilzati appesi a un paracadute e su ogni cuore c'era scritto puccio vuoi essere il mio valentino ho guardato il direttore con immenso stupore e lui ha sorriso semplicemente dicendomi è per te ancora se ci ripenso mi tornano le lacrime agli occhi sono entrato in classe così diverso da quella di sempre che mi circondava e scioglieva il mio rancore verso la scuola americana e pepurrà strillavano i ragazzi tutti senza grembiule nero guardandomi allegri e io lì come come un perso col grembiule nero e il colletto bianco inamidato e il nastro azzurro che la mamma mi aveva stirato e portato dietro che piangevo senza sapere che dire loro non capivano che tanta amicizia potesse fare piangere e io non capivo come si potesse essere così amici senza neppure conoscersi senza essersi fatti nessun piacere nessun dispetto e non capivo e non capivano che piangevo non perché desiderassi la mia vecchia scuola buia ma perché la nostalgia delle vecchie care cose di scuola era stata battuta dal loro riso semplice e stupito e avevo un gran bisogno di tenere stretta la mano di qualcuno mentre le lacrime mi scendevano a fiotti e la bocca sorrideva john bissi tom dick e tutti gli altri che mi riempivano il sacchetto appeso al mio banco chiaro di cuori di zucchero di nastri colorati di cose stranissime e meravigliose o ragazzi quanto vi ho voluto bene